Negli ultimi mesi sono tornato più volte sul concetto di diversità. La diversità attrae, incuriosisce, elimina la concorrenza. In un mondo dove tutti fanno zig, tu devi trovare il tuo zag. Esiste un modo sicuro per trovare il tuo zag e utilizzarlo nel mercato immobiliare? Martin Neumeyer, autore e speaker, dice che ciò che le persone vogliono oggi sono marchi affidabili. Ciò che invece non vogliono è più invadenza, più affermazioni vuote, più disordine. L'aumento dei messaggi pubblicitari esaspera le persone ed il modo più semplice per difendersi, sai qual è? È quello di bloccare gli stimoli esterni. Siamo diventati bravissimi a schippare la pubblicità, a uscire da siti web e da applicazioni piene di pop-up. Nonostante questo, sai qual è la soluzione della maggioranza delle aziende? Aumentare i messaggi pubblicitari. Il mercato di oggi è dominato dalla confusione. L'unica scelta che hai è quella di spiccare il volo sopra la confusione. Come trovare quindi il tuo zag? Scopri uno spazio libero nel mercato, impara ad osservare le persone e i loro bisogni. Il tuo posto è lì, da qualche parte. Quando stai cercando un bisogno, non pensare tanto al prodotto o servizio che ancora non c'è. Piuttosto concentrati sulla tribù ancora insoddisfatta. Vagori in un settore dove gli agenti immobiliari spesso appaiono tutti uguali, stessi vestiti, stesse frasi, stesso modo di fare. Prova a guardarli con gli occhi del bisogno di un cliente. Cosa vedi? Come vedi te stesso? Prova a rispondere a queste domande. Chi sei? Che cosa fai? Qual è la tua visione? E ancora, chi sono le persone che comporranno la tua comunità? Che tipo di cliente vorresti? E cosa ti rende davvero unico? Conosco alcuni agenti immobiliari che hanno puntato sulla diversità. Lo hanno fatto rispettando la propria natura, cercando un modo di essere agenti coerenti con i propri valori e la propria visione. Di certo quello che hanno ottenuto è maggiore serenità nel lavoro quotidiano, il rispetto dei clienti e la loro fiducia. Una nicchia di mercato che soltanto loro hanno speccato il volo sopra la confusione, verso la qualità e la riconoscibilità. Se non puoi dire e sostenere con i fatti di essere l'unico, torna indietro e ricomincia.